Oggi venerdì 14 agosto il canale industriale ha restituito il corpo di un uomo dall'apparente età di 70 anni, si tratta della quarta vittima della rete di canali che comprendono anche i navigli e villoresi nell'ultimo mese. Il primo incidente il 6 luglio quando a morire fu un pakistano di 55 anni a Castanoprimo. Ieri il recupero hanno osate, un recupero che è stato reso particolarmente difficoltoso dalle condizioni del canale che in questi giorni è in piena. Il corpo era stato avvistato all'altezza della Madonna in Binda quando sono arrivati i vigili del fuoco da ormai a un centinaio di metri dalle griglie della centrale Castelli quindi è stato necessario intervenire subito. I vigili del fuoco si sono lanciati con una speciale tuta per mantenersi a galla e sono riusciti a riportarlo a riva dove inutili tentativi di rianimazione sono durati per qualche minuto. Grazie